Musica Ancora infrastrutture, il comitato Salviamo l'aeroporto ha consegnato questa mattina al prefetto le firme a sostegno del mantenimento della pista dal Molin. La petizione chiede alla rappresentante del governo di dar voce alla richiesta informando il commissario Costa e sottolineando come la necessità della sopravvivenza dell'aeroporto sia legato non solo a ragioni economiche ma anche al mantenimento della scuola di volo e ad un punto di atterraggio per voli di carattere sanitario e per emergenze.